Signori, l'ho trovato. Tu devi essere il nostro sindaco. Io sindaco. Sì. Lei le vuole vincere queste elezioni? Senza dubbiamente. Daremo mille euro a persona. Due mila! Certo, lei deve pagare le tasse. Ho detto no e detto no! Domenica, la voglio vedere in prima fila nella sua chiesa parrocchiale. No, effettivamente però, Freddo, sto telefonando, va, se per cortesia abbassa un po' il volume, un po' di creanza. Antonio Albanese in Qualunque Mente. Questa sera alle 21.20, Rai 3.